1, 2, 2, 3 Singapore, circuito cittadino con asfalto scivoloso e sconnesso che generano pochi problemi di grip Curva 1, 2, 3, doppio cambio di direzione con forte impegno laterale dei pneumatici Curva 7, staccata a settima terza con decelerazione di 190 km all'ora Sequenza curve 1, 2, 3 Il pilota tende a ritardare la frenata incrociando inserimento ed accelerazione Condizione che sottopone il pneumatico ad una combinazione di accelerazioni laterale e longitudinale che impegnano la carcassa Nel doppio cambio di direzione l'elevata rigidità di deriva della struttura garantisce al pilota l'ottimale precisione di guida Con il perfetto controllo della traiettoria Curva 7, bump e irregolarità dell'asfalto non consentono di garantire un'impronta terra costante per scaricare tutta la potenza frenante Tuttavia, con la mescola più morbida, il pilota riesce a massimizzare la decelerazione della monoposto Raggiungendo un valore di 4,3 g di frenata Asfalto sconnesso e a basso coefficiente di aderenza Pirelli propone le mescole soft e super soft Che garantiscono massimo grip e meccanico utile ad affrontare le caratteristiche di questo circuito Farei le mescole soft e super soft Due! Tu è! Race! Race! Space!